Ho la gioia di comunicare con voi attraverso questo video messaggio, non avendo potuto rendermi presente per motivi pastorali molto impellenti nella mia chiesa diocesana, ma è lì presente Don Sergio Pellegrini, è stato da me inviato proprio per portare a voi la presenza di questa chiesa diocesana di Trani Barletta Biceglie che porta avanti con grande attenzione e accuratezza il processo di beatificazione della serva di Dio Luisa Piccarreta, processo che è ormai chiuso a livello diocesano e che è sotto l'osservazione della congregazione della causa dei Santi e anche della congregazione della dottrina della fede. Sento il bisogno di ringraziare chi mi ha invitato al vostro convegno molto importante, come fu anche il convegno internazionale che vivemmo qui nell'Arcidiocesi, accorato nell'aprile del corrente anno. Saluto e ringrazio in particolare Sua Eccellenza Monsignor Vicente Macanana Navarra, vescovo di Bacolod, ringrazio anche Monsignor Deograzias Iniquez che partecipò al quarto convegno internazionale, una figura per me molto amabile, per cui sento davvero grande riconoscenza verso te carissimo confratello Deograzias. Saluto poi in particolare l'associazione di Luisa Piccarreta, Little Children of Divine Wilde delle Filippine e degli Stati Uniti d'America che hanno organizzato l'evento che voi vivrete. In modo particolare poi saluto e ringrazio Dan Garcia e Frank Yardin tutti gli appartenenti all'associazione per aver organizzato queste giornate di spiritualità e di comunione nelle Filippine. Luisa Piccarreta non è diciamo nostra proprietà, Luisa Piccarreta è dono di Dio e noi lo vogliamo accogliere perché ogni dono di Dio porta poi a tutta la Chiesa e a quanti scoprono la presenza di questo dono una grazia che ci fa crescere in Gesù Cristo. Luisa è stata la piccola figlia della Divina Volontà e con lei si è messa tutta nelle mani di Dio, si è lasciata portare al Padre dal Figlio Gesù piena di Spirito Santo. La sua vita è stata una vita feriale diremmo, una vita ordinaria ma vissuta in un modo straordinario. Pensate per circa 70 anni Luisa ha vissuto nella sofferenza stesa su di un letto, per lei il letto era diventato altare. Si offriva per la gloria di Dio e si offriva per tutti i fratelli, particolarmente per i più fragili, per i più poveri. Lei accoglieva tutti, non respingeva nessuno e tutti incoraggiava a essere veri figli di Dio. Ecco vorrei così con molta semplicità riportarvi quelle tematiche nodali che noi abbiamo trattato nel quarto convegno internazionale che si è celebrato qui nella sua terra che è Corato. Innanzitutto nella varietà delle culture e delle lingue che erano lì presenti, eravamo in tutto 700 presenze provenienti da paesi veramente diversi che rappresentano tutto il mondo, presenze dall'Irlanda, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Germania, Polonia, Canada, Stati Uniti, California, New York, Oio, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Washington, Florida, Illinois, Massachusetts, Wisconsin. E poi anche dal Messico, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Peru, Nigeria, Filippine, Corea, Australia. Ecco possiamo dire che questo convegno vissuto in Corato portava i cinque continenti della terra. Ebbi modo di dire che nella varietà delle culture e delle lingue noi abbiamo potuto fare una intensa esperienza di chiesa mistero di comunione missionaria. Ora abbiamo il compito di essere più fedeli al carisma del vivere nel divin volere sull'esempio della serva di Dio, Luisa Piccarreta. Noi abbiamo certamente imparato a dire voglio fare la volontà di Dio. Ci è stato sempre detto fate la volontà di Dio. Ma chi ce l'ha detto è Gesù. Ma Gesù ci dice che noi dobbiamo fare la volontà del Padre come in cielo così in terra. Ed è qui il carisma specifico che brilla dalla vita cristiana di Luisa. Ecco, Luisa si è tutta immersa in Dio. E immergersi in Dio non in un modo ideologico, fantasioso, ma innestata in Cristo con il battesimo. Ecco, Luisa è rimasta in Cristo e si è sviluppata come figlia di Dio vivendo in Gesù Cristo. E questa operazione è operazione dello Spirito Santo. Per cui Luisa ha vissuto nella Santissima Trinità. La Santissima Trinità ha trovato in Luisa il suo Tempio. E allora ecco, noi vogliamo vivere la vita cristiana come Luisa. Immersi in Cristo e in comunione con i fratelli. Non possiamo noi staccare la serva di Dio Luisa Piccarreta dalla Chiesa. No, la Chiesa è il luogo teologico in cui Dio ci incontra, in cui Dio ci trasforma e ci dà la capacità di formare la sua famiglia. E allora vivere nella volontà di Dio significa vivere la realtà della Chiesa sulla terra. Dobbiamo vivere nell'unità, nella comunione e nella missionarietà. Ecco l'impegno di vita cristiana che scaturisce da questo carisma che Luisa ha fatto brillare, ma che non è neppure suo, ma è proprio quello che Gesù ci ha detto. Si è fatta la volontà del Padre come in cielo così in terra. Ecco, io aspico che il vostro convenire insieme, guidati dai pastori, e i pastori sono i vescovi, da coloro che li collaborano, dai sacerdoti che diventano gli assistenti dei gruppi di preghiera di Luisa, possiate anche voi gustare quello che gustammo qui in Corato, la bellezza della Chiesa, la forza della Chiesa, che è Gesù con noi, è Gesù che ci accompagna, Gesù che è via, che ci conduce al Padre, con la gioia che è lo Spirito Santo, che noi esprimiamo attraverso il vivere quotidiano, l'attaccamento ai nostri doveri, però animati, sostenuti sempre dalla grazia di Dio. Ecco, buon convegno a tutti, da parte mia vi do la mia benedizione e attendo davvero con gioia e con viva speranza le conclusioni del vostro convegno. Grazie ancora a tutti. Grazie.